A-ZIONE! Frida, non possiamo arrivare, tardi il primo giorno! Andiamo! Conta una sola cosa a scuola. Essere di successo. Proprio come me? Secondo me ti stanno fotografando solo perché ti gola il naso. Occhioni, sorrisini, più dramma, più emozioni! Chigno da bucagnare, faccia da teschi, occhio da triglia, morso di squalo! Buongiorno a tutti! Ci sono due nuovi studenti da oggi, Pinocchio e Frida. Stop e pausa!